Lo scempio che c'è là in fondo per capire chi deve prendersi la responsabilità di pulire una cosa che non sta nel cielo o in terra. Non più tardi di due mesi fa la zona era pulita, sgombra da rifiuti. Ieri Mirko Zanini e Giuseppe Storti, due amici che nel tempo libero raccolgono i rifiuti che deturpano alcune zone verdi di Cremona, sono tornati a fare un sopralluogo davanti all'ingresso della piattaforma della raccolta differenziata in via San Rocco e hanno trovato ciò che state vedendo in queste immagini. Davanti alla discarica tutto questo viene lasciato lì perché sono mesi e mesi, noi eravamo già venuti a pulire. Guardate che roba, qui ci vorrebbe un camion, noi cerchiamo di portare a casa la roba con i sacchi ma è una cosa improbabile. C'è di tutto, ogni genere di rifiuti, pesanti e pericolosi. Il paraurti di un'auto, una trentina di copertoni, un divano, una caldaia, alcune paia di scarpe e ancora un lavabo, lastre di Eternit e latte di pittura aperte. Qui c'è davanti alla discarica, la vedete lì, qui a 20 a 10 metri, quant'è? C'è tutta questa roba qui, ma sotto c'è di tutto. Il comune, con cui Mirko e Giuseppe hanno da tempo aperto un confronto, ha promesso loro di monitorare la situazione. Sono stati interpellati sia l'assessore al bilancio, con delega alla gestione integrata dei rifiuti urbani, Maurizio Manzi, e la responsabile dell'ambiente, Simona Pasquali. L'amministrazione avrebbe attivato un sistema di monitoraggio e sorveglianza con l'utilizzo di fototrappole per contrastare o comunque contenere il triste fenomeno dell'abbandono incivile dei rifiuti. È una vergogna, veramente una vergogna. Non si può lasciare un territorio in queste condizioni.